Stefano Rustioni, Head of E-Commerce Management. Siamo alla seconda edizione dell'Innovation Campus di Piacenza, edizione grandiosa. Quest'anno abbiamo anche uno stand dedicato a Profishow. Profishow è il canale di vendita online di Ungaric, dove potete trovare più di 4.500 articoli per le vostre attività, azienda, magazzino, ufficio. E ricordatevi che il trasporto è compreso nel prezzo.